Quarto decesso in provincia di Lecce a causa del virus H1N1. Ora è emergenza. Un sessantenne di melpignano è morto nel pomeriggio di ieri all'ospedale di Scorrano. Il paziente era stato ricoverato in rianimazione una settimana fa. Era giunto in condizioni critiche per un'insufficienza respiratoria acuta e tutto lasciava ipotizzare che si trattasse di influenza, ipotesi poi confermata successivamente dal test risultato positivo. Purtroppo le condizioni dell'uomo si sono aggravate col passare dei giorni per il sopraggiungere di una broncopolmonite massiva bilaterale. Il decesso è stato confermato da Giovanni Gorgoni, neodirettore dell'ASL di Lecce. Resta invariato il numero complessivo di casi accertati di H1N1, 9 dall'inizio dell'emergenza. Continua intanto il blocco dei ricoveri per interventi programmati, mentre la situazione nei sei ospedali del territorio salentino è sotto controllo. Un paio di giorni fa era stato smentito un altro caso di decesso nel Salento dovuto al virus killer. La notizia era stata resa pubblica nel corso di un convegno svoltosi a Bari ad opera dell'osservatorio epidemiologico pugliese. Gorgoni rinnova ancora una volta l'invito a effettuare il vaccino, basta rivolgersi al proprio medico di base. La profilassi è importante soprattutto per i bambini, per i pazienti cronici e per gli over 65. Occorre mantenere alta la guardia in quanto i tassi di influenza sono ancora molto alti. L'incidenza della malattia influenzale resta superiore al picco raggiunto lo scorso anno in Puglia. A provocare le morti di pazienti in età avanzata in tutti gli ospedali d'Italia non sarebbe tanto il virus dell'influenza, ma l'azione di batteri antibiotico resistenti che colpiscono soprattutto anziani, scompensati e immunodepressi. La direzione dell'Asle di Lecce ha infatti smentito la correlazione tra i recenti decessi all'ospedale di Scorrano e il virus H1N1, così come sottolinea l'Associazione Salute Salento presieduta da Cesare Mazzotta. In cima alla lista dei batteri killer diventati resistenti all'uso eccessivo di antibiotici c'è l'amicidiale clebsiella, ma anche infezioni più comuni come la candida e lo stafilococco. La Asle intanto corre ripari. Il nuovo commissario Giovanni Gorgoni ha anticipato che in questi giorni il direttore sanitario sanguedolce, esperto di malattie infettive, incontrerà la dirigenza dell'Asle per fare il punto della situazione e quindi tracciare un piano di intervento e soprattutto di prevenzione. Gorgoni aggiunge che gli ospedali sono posti in cui si utilizza l'antibiotico e in cui si sviluppano le resistenze più accanite. Il controllo delle infezioni ospedaliere è un asse portante della funzionalità dell'ospedale, continua il commissario. Ci muoveremo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, poiché l'industria farmaceutica da qualche anno non trova terapie efficaci. L'Associazione Salute Salento sottolinea inoltre che le direzioni sanitarie degli ospedali, finora, avrebbero fatto poco e niente. Nonostante l'ex direttore sanitario Ottavio Narracci a novembre scorso rinnovò la composizione del Comitato per le infezioni ospedaliere garantito dalla Regione, tale organismo, Alvito Fazzi, non ha quasi mai funzionato. Tragedia la notte scorsa lungo la strada provinciale che collega Galatina a Galatone. Un 44enne di Galatina, Michele Contaldo, mentre camminava a piedi ai bordi della strada, è stato investito da un'auto condotta da un uomo, anche lui di Galatina, che non ha potuto far nulla per evitare lo scontro. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 23, a circa un chilometro dall'ingresso di Galatone. Poco prima, diversi automobilisti avrebbero notato l'uomo che pare cercasse un passaggio, solo per miracolo avrebbero evitato l'impatto. Il conducente di un Opel Corsa purtroppo lo ha investito in pieno, sbalzandolo lontano. L'impatto è stato fatale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale e gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Galatone con i colleghi della compagnia di Gallipoli, a cui è stato affidato il compito di indagare e ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Dovranno chiarire anche il perché la vittima si trovasse su quella strada a quell'ora tarda. Illeso il conducente dell'auto è rimasto però in evidente stato di shock. Arresti nella pubblica amministrazione di Gioia del Colle per presunte tangenti. In manette è finito anche il sindaco Sergio Povia insieme all'ex vicesindaco Francesco Paolo Ventallini, l'imprenditore gioiese Antonio Posa ed altri nove funzionari. Secondo le indagini della Guardia di Finanza, gli amministratori, in cambio di una presunta tangente di 100.000 euro, avrebbero creato le condizioni affinché Posa si aggiudicasse la gara per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare. Gli indagati dovranno rispondere di corruzione, turbativa d'asta e turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti. Sono partiti i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri e dei Nassi di Taranto, nei comuni di San Giorgio Ionico e Carosino. Nel Merino dei Militari sono finite due attività commerciali, in particolare un chiosco e una pizzeria, dove sono state rilevate infrazioni amministrative relativa ad una mancata compilazione dei registri per la pulizia dei locali. Contestata anche l'omessa realizzazione di un idoneo locale spogliatoio a servizio del personale dipendente. La sanzione per entrambi i casi sarà di circa 2.000 euro. Ancora auto in fiamme a Foggia. A bruciare questa volta un Opel Corsa parcheggiata in Viala Russi di proprietà di un agente di polizia penitenziaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio, ma indagini sono ancora in corso per chiarire la natura dell'accaduto che sembrerebbe di origine dolosa. Nasce un accordo tra il Comune di Lecce e la Casa circondariale di Borgo San Nicola per la cura e la tutela dei gatti randaggi in difficoltà. Il progetto, unico in Italia, è in collaborazione con l'Associazione Guardie per l'Ambiente e conterà sulla partecipazione della ditta Mello di Carmiano per la realizzazione e la gestione di un'area attrezzata per l'accoglienza dei felini presso l'istituto carcerario di Borgo San Nicola. In sostanza, l'assistenza ai gatti che hanno subito traumi o incidenti di vario genere e che necessitano di cure e attenzioni particolari verrà garantita dagli stessi detenuti. Il protocollo d'intesa è stato firmato da Andrea Guido, assessore alle politiche ambientali del Comune di Lecce e Rita Russo, direttrice dell'istituto di pena. Dopo l'accordo per la bonifica delle discariche abusive per la manutenzione del verde e dopo il grande impegno dimostrato lo scorso anno e volto all'aumento della percentuale di differenziata, arriva adesso questa nuova iniziativa per la salvaguardia e il benessere degli animali. Si chiama Filippo Eppanaru ed è un'associazione onlus dal duplice significato. Quello intrinseco del dialetto salentino, inteso come contenitore di cultura, è in ricordo del giovane Filippo Fasanelli, un ragazzo scomparso a soli 19 anni a causa del male del secolo. In sua memoria la madre, Gisella Centonce, presidente dell'associazione leccese, ha organizzato un evento per raccogliere fondi da devolvere al reparto di onco-ematologia pediatrica di Lecce, che è stata la seconda casa durante i mesi in cui Filippo combatteva la grave malattia, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere. È stato appena pubblicato il bando del concorso di poesia sul tema alla vita è. Il concorso si articolerà in tre sezioni, poesia inedita in lingua italiana per concorrenti under 19, poesia in lingua italiana per concorrenti over 19 e una sezione riservata alla poesia in vernacolo. Una giuria autorevole e altamente qualificata esaminerà gli elaborati e decreterà la graduatoria finale dei vincitori del concorso a cui saranno attribuiti premi in denaro e targhe. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel Teatro Paesiello di Lecce il 23 aprile 2015. Ho costituito un'associazione in memoria di mio figlio che è venuto a mancare quasi otto anni fa e quindi ho organizzato sempre degli eventi in sua memoria a favore dell'oncoematologia pediatrica e in questo momento mi è sembrato proprio necessario costituire un'associazione in suo nome. Il bando di concorso è ispirato soprattutto a una poesia che ha scritto mio figlio a 15 anni quando pensava di avercela fatta. È un concorso a livello nazionale il cui scopo è benefico. Parte del ricavato andrà a favore sempre dell'oncoematologia pediatrica che io ho molto a cuore. Non giocheranno perché squalificati Sacilotto e dichiara e gli infortunati Dumbia, Papini e Vinetò nella sfida che domenica alle 14.30 contrapporrà al Via del Mare il Lecce e al Savoia per la quinta giornata di ritorno di Lega Pro. Sarà la prima di Alberto Bollini sulla panchina giallorossa scelta dettata, come ha spiegato il direttore sportivo Antonio Tesoro dalla volontà di imprimere al cammino del Lecce quella svolta che non è arrivata sotto la guida di Dino Pagliari. Il tecnico maceratese ha pagato le conseguenze della mancata sterzata dei giallorossi, oggi nuovamente fuori dalla zona playoff. Eppure Pagliari aveva risparmiato le fatiche del campo ai giocatori meno in forma e puntato, come chiedeva la piazza, su Capitan Miccoli, lasciato in naftalina da Lerda. E stava provando a colmare le falle di una difesa che subisce gol facilmente evitabili come quelli incassati a Reggio Calabria. Il primo di testa su azione nata da punizione e il secondo propiziato da un giocatore che riesce a calciare fra due difensori giallorossi e realizzato da Maimone, lasciato a piede libero. Pagliari dunque capro espiatorio degli insuccessi del Lecce e Alberto Bollini come salvatore della patria. L'allenatore nato a Poggio Buscone ha anche scelto alcuni dei giocatori arrivati in chiusura di mercato nel capoluogo salentino. Inizia dunque un altro corso, il terzo in questo campionato che ora per il Lecce sarà all'insegna della linea verde. Sono arrivati infatti giocatori giovani come ventenni Embalo e Manconi, i ventitreenni Gustavo, Herrera e Beduschi, oltre a Di Chiara, ventiduenne e a Tommaso Scuffia di ventiquattro anni. In campo domenica però si vedranno anche gli anziani Moscardelli e Miccoli, trascinatore l'uno, bandiera l'altro nella sfida contro il Savoia. In campo domenica però si vedranno anche gli anziani Moscardelli e Miccoli, trascinatore l'uno, bandiera l'altro nella sfida contro il Savoia, ultima in classifica a 20 punti, 19 in meno dei giallorossi. Avversario fra i più temibili per il Lecce, vista una certa propensione dei giallorossi con le squadre di fondo classifica, arbitrerà Giosuè Mauro Tapice della sezione di Arezzo. Grazie.